E' un po' tardi, eh? Andò, se so che rire di quella zoccola, quando è vero, vietà, cì! Desidera. Scusate, vorrei parlare con la signora Mailit. Mi chiama Salvatore Savastano. E' occupata, puoi attendere un momento? Ma sì, ti credo. C'è un signore per voi. Senti, aspetta solo un momento. Non deve andare, eh? Torno subito, ma aspetti? Sì, sì. Ma di un po'. E come, non ti voglio bene. E dammi una base. Sì, sì, ti mando una base, tieni. Va, 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 va. Buongiorno. In che posto esservi utile? Mi chiama Salvatore Savastano. Mi hanno detto che qua posso trovare qualche cosa che sto cercando. Saggio consiglio. Ehi, va tu, va. Se mi volete, mi chiamate. Mailit vi può fornire qualunque cosa desiderate. Di tutti i generi. Qual è il vostro problema? Vendere? No, donna Mailit. Io compro. Ah sì? Che cosa? Mobili, argenderia, vasellame? Informazione. Ah. Non ho questo tipo di merce. Buongiorno. Forse non mi sono spiegato bene. Sono disposto a pagare qualunque cifra. Qualunque cifra. È un'offerta molto vaga. Dieci milioni vanno bene. Questa potrebbe modificare la situazione. Che tipo di informazione desiderate? Questa. Ci sono quattro uomini a Napoli. Quattro uomini? E sono già venuto o verranno qui da voi. Voglio sapere chi sono. Non so neanche di che parlate. Vabbè. Signor, se mi volete dicere voi, mi ho diciato voi. Se no, fatemelo dire da che vi pare. Questo è il mio numero. Tanto buono, pecerei. Grazie.